Sperto lì, ancora Cortina, la palletta di Hoag, difende in tuffo, Modena poi, la giocata geniale. Vabbè certo, fronte a quel pallone, serve molto bene il vettore, galleggio a Mattei Casisti, attacco di Djuric, bello diagonale, guardarvi capete che cosa va a prendere dall'altra parte però no, l'Orientio deve avere capo di Dirk, che è di vero. La percepzione deve essere molto esperta con lui. Levantamento, Guantorena, è spettacolare in Gapè, Edric! L'Orientio è iniziale! Proprio, Gionotti, potente su Sexta! Cosa da fare? Wow, vai 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 vai! Guardate Erwin che apetta! Bazzalo ora! Se ne va in panchina da prendere! Ora vai più Irvi! Bazzalo! Cambia servizio! Primo tempo di Simone Buti! Wow! Corduna! Lo lasciano in palleggio! Guardi, credo di Rossini! Non da perché! Ho giusto! Ho giusto! Guardi! Ho giusto! Guardi! I rispiti! Guardi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.